Abbiamo un gran gol, il tuo, importante perché il gol del 3-1 forse è quello che ha chiuso la gara. È importante, sono molto contento di fare un bel gol, ho aiutato le squadre a vincere in presa 3 punti che a noi si serviva tutti. La Roma che ora vola verso la Champions, quanti cittadini? Dobbiamo credere fino in fondo, però sempre viene per fare, sappiamo che è difficile, dobbiamo vedere anche le squadre a vincere che scivano, ma sappiamo che le strade a lungo, ci sono ancora tanti partiti, dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo pensare quello che fanno gli altri.